Camminiamo ogni giorno a fianco dei più deboli. Il nostro viaggio ci porta nell'ultimo miglio, là dove non c'è più nessuno, dove gli aiuti non arrivano, dove il bisogno è nascosto e dimenticato. I nostri passi sono silenziosi come il nostro lavoro, che non fa notizie. Medici con l'Africa QAM è la prima organizzazione italiana che opera per tutelare e promuovere la salute delle popolazioni africane. Grazie a tutti i nostri spettatori, a 60 anni di distanza io vedo intatte le motivazioni, le energie e la determinazione del QAM, dei medici con l'Africa. Anche questa, per fortuna, è l'Italia e non dobbiamo mai dimenticare. Ogni piccolo aiuto è un pezzo di strada in più che possiamo fare per ridurre la sofferenza e salvare una vita. Medici con l'Africa QAM dal 1950 per il diritto alla salute.